Che settimana è stata e che partita si annuncia? È difficile per lo Spezia e quindi cerchiamo di andare a cambiare questa tradizione, andando a giocare contro una squadra che come lo Spezia, che tutti e due vogliono risalire la classifica. Quindi un match molto bello sotto l'aspetto dell'intensità perché loro vengono da un'importante vittoria di Grotone e noi veniamo da un'importante, ma soprattutto per come è venuta la vittoria della Salernitana, con una prestazione come piace a me, di intensità ma anche di gioco. E niente, si affrontano da due squadre che vogliono risalire la classifica e quindi il match sarà molto equilibrato e sarà deciso probabilmente anche dagli episodi. C'è un po' di turnover o per i ragazzi che sono portati lì e in tutta la gara? Ma tanto turnover no perché non è come un mese fa, che giocavamo ogni tre giorni per nove partite di seguito, quindi lì era giusto farlo, è stato fatto anche abbastanza bene, secondo me i ragazzi sono stati bravi a mettersi a disposizione. Qualche problemino si è stato in settimana, adesso vediamo un po' se la decisione la prenderò domani mattina su uno o due giocatori, però so che Ciurria chiaramente non ha recuperato, Catellani sarà pronto dalla prossima settimana, da lavorare con la squadra, che erano i due giocatori che sicuramente si potevano recuperare, ma saranno per la prossima settimana, soprattutto Catellani sarà la prossima settimana e Ciurria lo vedremo da martedì se riuscirà a fare con noi. E Wande ha lo stesso motivo, per lo stesso motivo Wande che fino a martedì non riesce, deve recuperare, fino a martedì ancora non abbiamo possibilità di allenarlo. Queste sono le notizie dell'infermeria, mentre hanno recuperato sia Pulsetti, sia Pulsetti ha recuperato, quindi i convocati sono 21 e domani mi aspetto una prestazione di grande compattezza, di grande concentrazione perché abbiamo bisogno di dare continuità ai risultati che stiamo facendo, stiamo bene, la fiducia c'è e quindi bisogna solo cercare di scendere in campo decisi e determinati e con grande concentrazione per ottenere il meglio possibile da questa trasferta. Il resto più piccolo come lei dice, come è stato l'approccio di questa primavera? Ma se vuoi una parola del singolo non c'è neanche bisogno di presentazioni, è un giocatore di una qualità tecnica straordinaria e velocità, quindi è un giocatore determinante per lo Spezia e come tutti gli altri, però lui ha le caratteristiche che possono far saltare qualsiasi tipo di difesa avversaria. E' chiaro che ha bisogno, come la squadra, ha bisogno di lavorare perché anche lui questa settimana qua ha lavorato due giorni, quindi poco per quello che riguarda la crescita sua. Sono contento che la settimana prossima si possa lavorare normalmente anche per lui, però sotto l'aspetto della tattica, sotto l'aspetto dell'individualità, è un giocatore che ha grandissima capacità tecniche, grandissima qualità di passaggio, ma soprattutto intelligenza perché fa sempre le cose giuste al momento giusto. Ma guarda, io secondo me, io quello che valuto chiaramente nella squadra è che io cerco di mettere competizione nei ruoli, perché se c'è competizione sana, sana significa che tutti devono cercare di dare il meglio e il massimo per cercare di allenarsi al meglio e dare un contributo alla squadra, la squadra cresce. E quindi questo dualismo non c'è, c'è solo sana competizione e chi starà meglio giocherà. Chiaramente le qualità tecniche di Wanda non sono quelle di Errasti, però Errasti ha altre qualità, ma l'atteggiamento della squadra è troppo importante. Io valuto molto di più l'atteggiamento della squadra che il gioco del singolo. C'è niente da fare, perché noi abbiamo 33 punti, veniamo da due vittorie, da un pareggio di due vittorie, però il percorso che ho detto, lo ripeto, è lungo, il percorso di ricorso è lungo, quindi bisogna lavorare molto sul campo, crescere in questo mese, ripeto, crescere in questo mese, perché ci toccherà dalla prossima prossima fare due o tre settimane di lavoro, e l'obiettivo è arrivare a fine stagione nel miglior modo possibile per affrontare al meglio il finale di campionato, questo è l'obiettivo, però bisogna guardare all'immediato, l'immediato è compattezza, concentrazione, intensità e quella fame di voler fare risultati sia in casa che fuori allo stesso modo. Diciamo che fisicamente cominciamo a stare un pochino meglio, ma la squadra deve crescere ancora, a margine di miglioramento, perché il lavoro intrapreso abbiamo fatto solo due settimane di lavoro, immaginate voi due settimane di lavoro, cosa può succedere, no? Sapete bene, per cambiare una squadra, sia fisicamente che tatticamente, c'è bisogno di tanti allenamenti, e quindi dal 6 gennaio, quando abbiamo riniziato, abbiamo dovuto lavorare due settimane, e ce ne mancano tre, tre per far crescere la squadra e poi per mantenerla ai ritmi alti, però sta bene, perché le vittorie aiutano, sappiamo che le vittorie aiutano, quindi diamo anche fiducia a questa squadra, a questi ragazzi che quando si esprimono al meglio, come abbiamo fatto con la Sanitana, sono anche, secondo me sono molto bravi, perché la qualità tecnica c'è nella squadra, e quando c'è qualità tecnica, secondo me basta solo mettere a posto quello che sono l'organizzazione tattica, e le motivazioni per cercare di andare a prendere risultati dappertutto, sia in casa che fuori. Vediamo anche da una vittoria fuori casa, sicuramente, da Vercelli che era un capo difficile, però, ripeto, ogni domenica le insidie sono tante, e le insidie bisogna sempre affrontarle con coraggio, con fiducia, e soprattutto dare il meglio di se stessi per quello che riguarda lo Spezia. Allora, dell'avversario e del dettaglio hanno cambiato 4-5 giocatori, mettendoci dentro qualità, velocità, perché Percic del Torino, Aguirre dell'Udinese, Molina dal Cesena, tanto per citarne qualcuno, Rientra Guberti, che ho avuto come giocatore da Sampdoria, che è un giocatore importante sotto aspetto del dinamismo, dell'uno contro uno, Bianchi ha fatto già vedere le qualità che ha per la Serie B, quindi mi posso fermare qui, va bene? Bene, quindi basta e avanza, nel senso che poi hanno cambiato anche modulo, probabilmente giocheranno con 3-5-2, che hanno trovato un po' più di compattezza sotto questo aspetto qua, perché Del Prete è un giocatore che la fascia la fa forte e la fa veramente con grande intensità, quindi ci aspetta un avversario difficile, un avversario difficile ed utile, con un allenatore che la Serie B l'ha già vinta un po' di volte, quindi con una grande esperienza, ma per noi è più stimolante avere di fronte una squadra che sta bene, che è forte, per poter magari portare a casa il risultato pieno e cercare questo risultato pieno attraverso il nostro gioco alla nostra mentalità e quindi se dovesse riuscirci sarà ancora più bello e più stimolante, perché vince con le squadre che sono forti, soprattutto che la tradizione non è positiva, la tradizione non è positiva, è ancora più stimolante per noi. Ma guarda, sinceramente devo dire che non bisogna intanto mettere pressione ai giovani, perché adesso questa settimana qua Vignali probabilmente ha vissuto tutti i giorni di festa e non va bene, nel senso va bene per lui perché siamo contenti, però sappiamo bene che il calcio è micidiale, come perdi un attimo quello che sono la concentrazione e tutto quello che hai fatto per arrivare lì in ritorni normale e quindi non va bene, quindi non bisogna mettere pressione nei suoi giovani che abbiamo, tipo a Campora, Ciuria, Misic, Canagia, adesso mi vengono in mente questi poi magari ce ne sono altri che adesso forse crocchianti, che è fuori, che non riesce a recuperare dall'infortunio, ma speriamo di averlo il prima possibile. I prossimi giocatori devono essere la squadra, più che giovani deve essere la squadra, che devono trovare un pochino più di consapevolezza dei propri mezzi e continuare a lottare come stanno facendo per cercare di migliorare sia fisicamente e soprattutto nei risultati in campo, perché penso che sia la cosa che quando sono arrivato il messaggio è stata la squadra con la S grande, se mi ricordo, e oggi lo ribadisco. Se noi continuiamo a lavorare così e pensiamo da squadra e lavoriamo per la squadra, è un gruppo che può fare la ricorsa lunga, che può farci la ricorsa lunga, arrivare all'obiettivo. Grazie a voi.